Ciao ragazze, oggi volevo farvi un video un pochino diverso dal solito, nel senso che volevo parlarvi di un argomento che di sicuro avrete già visto dal titolo, che devo dire mi ha colpito parecchio, è un argomento che da diversi giorni sta ricorrendo molto di frequente sui social, quindi sia su Facebook che su Instagram e riguarda la controversia tra la Nivea e la Nive Cosmetics, nel senso che molti di voi di sicuro lo sapranno già, si saranno già informati eccetera, e in poche parole vi dico un po' cosa è successo per chi non lo sapesse. La Nivea pare che abbia fatto, quindi questa grande multinazionale ha fatto causa alla Nive Cosmetics per, diciamo a proposito del nome Nive, che da quello che ho capito io ecco, ha fatto quindi causa alla Nive Cosmetics perché appunto il nome Nive sembrerebbe per loro che ricordi Nivea, cioè come se Nive Cosmetics avesse utilizzato il nome Nive in maniera proprio di quasi un po' cercando un'assonanza, ecco così, con il nome Nivea. Questo il succo. C'è già stato addirittura il primo grado di giudizio e che credo che abbia dato, diciamo, vittoria alla Nivea e Neve Cosmetics ha poi scritto un post sulla propria pagina in cui appunto dichiara di non arrendersi perché ricorrerà in appello e provvederà comunque con i vari gradi di giudizio. Allora, io vi dico questo. Ho deciso di fare questo video perché francamente ci sono rimasta un po' male di questa cosa, cioè non me lo sarei mai aspettato che un'azienda, una multinazionale oramai consolidata con un'esperienza alle spalle di tantissimi, tantissimi anni, quindi si parla di decenni, abbia fatto causa a un'azienda con queste motivazioni. Cioè veramente la trovo, a parte che la trovo molto sterile perché fare una causa per un nome che in realtà almeno io per quanto mi riguarda non ho mai pensato. Io sono, ci tengo ecco, ci tengo particolarmente a questo video perché io sono una acquirente di Neve Cosmetics, sia della Nivea ma anche di Neve Cosmetics. Io con Neve Cosmetics mi sono trovata veramente veramente bene e ci tenevo proprio a diciamo tra virgolette sostenerla, nel senso perché è una cosa ma non, allora io non mi voglio schierare per carità da una parte rispetto a un'altra, ognuno si parla di vie legali e tutto, però ho piacere di dire la mia e di dirvi cosa ne penso. A parte il fatto che sono due brand che comunque hanno prodotti diversi perché comunque Nivea vende prodotti di comunque beauty, skin care, insomma di detersione eccetera eccetera. la Neve Cosmetics è un brand che si occupa di cosmesi e comunque va bene anche delle creme e tutto, ma più che altro cosmetici, pennelli e altre cose. Ma e poi onestamente cioè i nomi Nivea e Neve, cioè a quale persona è venuto in mente, cioè io da acquirente onestamente non ho mai pensato che Neve mi ricordasse Nivea a dire hanno copiato, cioè a volte capitano che ci sono dei nomi che ti ricordano di dire eh vabbè hanno preso spunto, ma Nivea e Neve, cioè io non ci ho mai pensato ma penso nessuna di voi abbia mai pensato che ci possa essere un'assonanza ecco tra questi due nomi. Ecco perché dico cioè che si sia mossa veramente la Nivea, una multinazionale enorme così a fare causa a un'azienda che comunque, cioè io credo che abbia festeggiato il decimo anno quest'anno, no sto controllando su internet, se non mi sbaglio 10 anni, credo, cioè correggetemi poi se sbaglio comunque, cioè fare causa a un'azienda che piano piano con le sue forze sta nascendo, che ha un'esperienza di tantissimi anni inferiore rispetto alla Nivea eccetera, che si basa su prodotti diversi e soprattutto anche su onestamente, cioè anche su una filosofia di vita completamente diversa, la vedo sterile, cioè inutile, quasi assurda, cioè mi sembra veramente assurdo che si sia voluta fermare, cioè una multinazionale così grande a fare causa per un nome che poi onestamente non mi sembra che abbia niente a che vedere l'uno con l'altro, cioè non abbiano niente in comune. Cioè la Nive Cosmetics è un'azienda che è nata addirittura con una filosofia di vita che secondo me è invidiabile, perché comunque è stata una fra le prime che ha adottato questa politica del cruelty free, del vegan, quando ancora non se ne parlava più di tanto. Quindi io dico, cioè tanto di cappello, io Nive Cosmetics sono appunto, come vi ho detto, un'acquirente, cioè ho acquistato diversi prodotti e mi sono trovata non bene di più. Hanno un servizio impeccabile, i prodotti arrivano con precisione, non ho mai avuto problemi né di tempistiche né di pagamenti, niente. I prodotti sono strabuoni e poi oltretutto appunto con una filosofia di vita completamente diversa, quindi neanche da dire che appunto hanno adottato le stesse... No, perché Nivea non ha la stessa filosofia che sta alla base di neve. Neve appunto sostiene il cruelty free, sono prodotti minerali, sono prodotti che non sono testati sugli animali, sono prodotti vegani, sono prodotti bio, quindi proprio una... Cioè un settore proprio a parte, addirittura è stata una... Io non dico pioniera, però comunque è una tra le prime, io me lo ricordo, cioè quando ancora non si parlava tantissimo, perché comunque del bio, del cruelty free, eccetera, non se ne parlava più di tanto, cioè le aziende comunque facevano... Cioè hanno cominciato poi dopo a muoversi, cioè a creare una sorta di rivoluzione ecco verso questo argomento del non testato sugli animali eccetera. E addirittura sul vegano, cioè io mi sembra quasi veramente, veramente assurdo che si siano mossi su conto un'azienda italiana che al momento è piccola, tra virgolette, nel senso paragonata alla Nivea, però è un'azienda che si sta man mano, giorno dopo giorno, affermando con le proprie forze, con la propria politica, con la propria visione del commercio, con la propria visione dei prodotti che poi appunto, come vi ripeto, per la miliardesima volta, sono anche diversi rispetto a quelli della Nivea, non lo capisco. E poi un'altra cosa che, cioè, su cui mi sono soffermata, fondamentalmente ragazzi, cioè, ma quanti nomi sono stati creati? Cioè l'alfabeto è quello, io dico no, cioè, un conto è quando è palesemente copiata a una cosa, ma l'alfabeto è quello, cioè i nomi sono composti da consonanti e vocali. Cioè, quanti società ci sono, uffici, ditte, negozi, brand, marche, quante scene sono nel mondo, create, italiane, straniere, eccetera? Cioè, a prescindere dal fatto che io non penso assolutamente che ci sia un'assonanza tra Nivea e Neve, ma anche, cioè, ma oltretutto, cioè, quante, quanti nomi sono stati creati? Cioè, può anche essere che essendo le vocali quelle, le consonanti quelle, cioè che ci siano poi, prima o poi, dei nomi similari, ma questo non vuol dire che uno abbia voluto copiare l'altro, ma semplicemente perché le parole sono quelle. Cioè, ogni parola è formata da consonanti e da vocali. Cioè, non vedo tutto questo, cioè, di parole ce ne saranno miliardi, di miliardi, di miliardi nel mondo, di brand ce ne sono a miliardi e poi, appunto, fra compagnie, società, uffici, nomi di negozi, nomi di marche, di qualsiasi genere, cioè, di società, nel senso, ce ne saranno, sono quanti nel corso del tempo, se ne saranno stati creati di nomi? Cioè, può essere che qualche marca abbia un nome similare, ma perché, appunto, cioè, poi fondamentalmente sono quelli, cioè, anzi, è difficile trovare un nome, cioè, io mi metto nei panni di una società che apre, che deve trovare il proprio nome o una marca, che, cioè, io avrei paura, io stessa avrei paura a crearlo, nel senso, perché comunque ogni cosa che mi viene in mente mi potrebbe ricordare un altro, e allora cosa faccio? Non, non, cioè, non me, cioè, non, non, allora a quel punto non apro più nessuna marca, non apro, cioè, perché allora non ci sarà mai un nome che anche lontanamente me ne possa ricordare un altro, perché, ditemi voi, quante marche sono state create? Quindi, cioè, a prescindere dal fatto che, secondo me, neve e nivea non hanno niente in comune, ma nemmeno di assonanza, nivea e neve, onestamente, non hanno nemmeno un'assonanza, quindi dico, cioè, di cosa si sta parlando? Cioè, mi sembra un po' sterile come motivazione, poi che si sia mossa questa grossa multinazionale che vendono, c'è una certa tipologia di prodotti, contro un'azienda relativamente molto più piccola, comunque, di nivea, che si sta costruendo man mano, cioè, ma, non lo so, io, onestamente, ci sono rimasta, ci sono rimasta proprio male, perché poi, volendo, sostengo il Made in Italy, quindi, secondo me, neve ha fatto un ottimo, un ottimo lavoro, io, cioè, l'ho sempre detto, ora non qui, su YouTube, ma l'ho sempre detto in generale, cioè, io non sono vegana, no? Io non sono vegana, però, vi dico la verità, io quando vedo negozi vegani, e mi è capitato anche l'altro giorno, mi sono accorta che nella mia città è stato creato un ennesimo negozio vegano, addirittura, è una sorta di erboristeria che vende comunque prodotti alimentari, e che, dalle più o meno, io credo, sei in me, sei e tutto, fa anche gli aperitivi, e ci sono tante sedie fuori con diverse persone, quindi vegane, che vanno lì, cioè, io, che non sono vegana, sono stracontenta, perché, a parte il fatto che li ammiro per la loro, per la loro visione della vita, la loro filosofia di vita, e poi dico, io mi metto nei loro panni, e dico, cioè, è giusto che abbiano degli spazi, che vengono fatti dei negozi, o comunque dei locali, come ci sono per chi non è vegano, cioè, è anche giusto che ci siano dei negozi che sostengono la loro visione, che magari possano trovare, appunto, se si tratta quindi di aperitivi, eccetera, piuttosto che di negozi che vendono prodotti, che loro possono tranquillamente utilizzare a casa, o altre cose, cioè, io sono stracontenta, ma perché è giusto così? E parlo io da non vegana, però, sono contenta, perché dico, beh, bene così, fino a dieci anni fa, non c'era tutta questa, nel senso, tutta questa attenzione, purtroppo, a chi era vegano, cioè, era un po' più difficoltosa, anche per chi magari andava a cena fuori, trovare un locale che avesse prodotti vegani, spesso e volentieri queste persone non avevano vita facile, adesso, invece, nei ristoranti troviamo anche dei menu a parte, troviamo, nel senso, di prodotti che siamo sicuri, o piuttosto che, ma la stessa cosa come c'è per il discorso della celiachia, anche se lì si parla di una patologia, nel senso, di un problema di altro tipo, però per dire l'attenzione a chi ha interessi o bisogni diversi dagli altri, cioè, è anche giusto, quindi, è per quello che, per dire, io, da una parte sostengo Nevi Cosmetics, a parte il fatto dell'essere un brand italiano e quindi, a maggior ragione, il Made in Italy, cioè, se non sosteniamo noi, italiani, il Made in Italy, quello che ci rimane della nostra, diciamo, della nostra produzione, delle nostre aziende, della nostra, in qualsiasi settore, cioè, è assurdo, ognuno dovrebbe, ecco, essere, diciamo, stimolare e essere un po' dalla parte di ciò che è nostro, quindi, come in questo caso, Neve. Quindi, e poi, appunto, al di là di tutto, cioè, io non è che voglio, per carità, ognuno poi la pensa a modo suo, però, ecco, mi è sembrata molto, molto sterile, ecco, come, come causa e soprattutto perché mi rendo conto anche delle difficoltà che può avere. Io spero che tenacemente Nevi Cosmetics riesca a uscirne nel miglior modo possibile, riesca a risolvere tutto senza grossi problemi, però mi rendo conto che, purtroppo, quando si entra nelle maglie della giustizia non è facile, soprattutto con un colosso, avere a che fare con un colosso, poi, come Nevea, cioè, dover affrontare i gradi giudizio, insomma, per quanto loro li vedono molto agguerriti, Neve, cioè, le dico su internet, sul suo post, insomma, che dicono, appunto, che, dice, no, abbiamo affrontato questa causa, dice, con l'impegno, l'onestà e la limpidezza che ci contraddistinguono e continueremo a combattere. Io lo spero, sono pienamente convinta che ce la faranno, però, ecco, mi rendo conto, ecco, gli sono vicina perché mi rendo conto che affrontare i processi non è semplice, soprattutto, appunto, quando hai come controparte un colosso, quindi io gli faccio un grande in bocca al lupo a Neve Cosmetics, vi auguro tutto il successo che meritate, perché comunque siete un'azienda italiana con dei valori forti, quindi io, insomma, spero teneteci aggiornate, di sicuro non mi saranno mai guardando, però comunque teneteci aggiornate e voi ragazzi, mi raccomando, ditemi pure quello che pensate e, insomma, facciamo un mega in bocca al lupo a questa azienda, perché se lo merita tutto e soprattutto quando ci sono dei problemi, è bene essere compatti e essere uniti. Difendiamo ciò che è nostro, ragazzi, io vi mando un grosso bacio come sempre e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!